Salve a tutti ragazzi, qui TtD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua su Dragon Ball Z da Khan Battle, versione JAP ragazzi Per andare a pullare sul nuovo Gohan, Gohan Team, Gohan Ultimate, come lo vogliamo chiamare del JAP ragazzi Ovviamente però prima di partire voglio solo ricordare una cosa di questa celebrazione perché Hanno voluto fare la mossa e la mossa si chiama... Dov'è? Dov'è? Aspettate... Ah! Rising Dragon 13, lo dico subito qua Questo si chiama Super Mega Bait, io probabilmente ci cascherò perché ho un canale YouTube e mi piacciono le LR Non ci cascate voi, ok? Volevo iniziare questo video dicendo subito questo, non ci cascate È proprio fatto apposta per essere il Mega Bait pre milioni di download, ok? Quindi non ci cascata questo banner È un Rising Dragon, è il momento migliore per pullare le LR, verissimo, è il banner di Dio se volete Le LR è vero, ma non ci cascate, non cascate a un Rising Dragon, ok? Proprio subito pre milioni Però ragazzi ora lasciando perdere quella news che è interessante, va bene È uscito il nuovo banner di Ultimate Gohan, Ultimate Gohan ragazzi Eccolo qua, è il ritorno di Bardock per la prima volta, è il ritorno anche piccolo È un banner decente, stranamente lo dico, è un banner che ne vale anche la pena Abbiamo il nuovo Ultimate Gohan, ok? L'abbiamo visto ieri, trovate il video qua sopra nelle schede Se volete vedere com'è a full ability Ovviamente abbiamo anche il nuovo Kaioshin, lo dobbiamo ancora vedere in questi giorni Lo andiamo a vedere però ho preparato un po' di video su Ultimate Gohan Cosa abbiamo poi? Bardock, ok? Bardock è la prima volta che ritorna Ce l'ho solamente ability free io, quindi A fine dei conti non è neanche troppo schifosa la cosa Avendolo ad ability free ci sta Piccolo anche lui ce l'ho ability free Manca sempre quel Nihil, quindi vabbè Cioè se lo pull ci sta anche bene, finché non trovo Nihil però non cambia la situazione Kid Goku vabbè, è full, Metacooler è full Gohan Ultimate STR, lasciamo perdere il Mega Troll E finisce qua il banner ragazzi A fine dei conti ripeto, buon banner veramente, buon banner veramente È strano, recentemente sono usciti un po' di banner un po' Meh, nel senso Nel grande schema, no? Tutti gli SSR che c'erano dentro non erano tutta questa gran roba Però dai, questa volta è abbastanza, è abbastanza bello Ragazzi, abbiamo 200 stone Come ho già detto, non so quanto pullare Il Gonbo è bellissimo, lo voglio Per quanto è forte Però siamo sempre per milioni, ok? Sinceramente Risparmio anch'io, no? Se l'ho possibilità risparmio anch'io per portarvi più contenuti sui milioni Che saranno di sicuro due banner un po' migliori di questo, ok? Però ragazzi Prima di andare avanti, io vi chiedo ovviamente Lasciamo, lasciate mille like Entro un'ora dall'uscita del video Ovviamente vi ricordo anche ragazzi Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione Domani, lo dico subito Andiamo a fare la Multi 55 Non l'ho ancora fatta ragazzi Registro sto video alle 10 appena è uscito il video E appena è uscita la Multi e tutto Non ho ancora fatto la Multi 55 La guardiamo domani Oggi guardiamo Go anche Mi interessa di più per quello Detto questo, ragazzi Andiamo subito Facciamo la prima Multi del video Vediamo un pochino cosa esce Dal banner di Gohan Ovviamente puntiamo a Gohan, eh Gohan si esce subito Io poi sono felicissimo Bardock va bene comunque Abbiamo Vegeta Abbiamo Virus, ok, vabbè Bardock va bene comunque Bardock ci può anche stare Alla fine è la prima volta che ritorna Era, cavolo era uscito Ok, in contemporanea Però era uscito appena iniziata la pandemia Quindi è stato un po' Eh rip, niente comunque Vegeta Animation È uscito un attimo nel momento peggiore possibile Bardock, ok Super Saiyan 2 C'è Virus Non lo dovevo neanche Ma non me lo dovevo aspettare Va, lasciamo perdere Non lo devo chiedere Non esiste Non esiste Whis Animation non esiste Io continuerò con questo meme Fondamentalmente che la Whis Animation È inesistente In realtà Non esiste Fine Non esiste Non può esistere Fine è l'unica cosa Pan Guldo Magico Guldo Che però non è quello SR Rip Gohan GT Lasciamo perdere Per ora solo schifo Un altro Gohan GT Perché, ripeto, no Lasciamo perdere Per ora solo schifo Zerbino Ciao Zerbino Ok Va bene Prima multi Demigra Mamma mia Che multi Senti che odore L'odore di merda Quello è l'odore di merda Demigra C'hai quello Secondo multi dei video ragazzi Al massimo arriviamo a 250 stones È proprio shafto completamente Ovviamente si spera di no Arriviamo a 250 C'è di nuovo Vegeta Ok Vegeta Puoi non essere un troll Grazie Perché ormai Ormai anche te Sei diventato una specie di meme Non esci mai Omega number one Ok Nemmeno Yeah Troll Troll Vegeta Vai così Però abbiamo Yamcha Yamcha È vero che te sei il miglior PG Di Dragon Ball È vero che te mi porti Un PG bello Ripeto Gon va benissimo Perché comunque è il PG nuovo Però Bardock Ad ability È carino Devo essere sincero Frost va bene Ok Sì Ottimo banner ragazzi Cioè ottimo banner Ottime multi Oh il gold SR Almeno quello Distruttore di mondi Ah rip Goku Kaioken fisico Lasciamo perdere Nulla di che Nulla di eccezionale Piccolo SR Ok Cell Questa multi Puzza di Puzza Puzza meno di me Perché comunque sono due PG Più carini di demigra Però puzza di me Puzza comunque di me Ok Facciamo una cosa Torniamo indietro Torniamo alla home Ok Lasciamo un attimo Ok Premiamo sulle summon Premiamo sulla faccia di Gohan Quella di Bardock Quella di Gohan Però soprattutto Ok andiamo Proviamo in questo modo Vediamo se funziona Vediamo se funziona I primi due minuti Sono state schifose Ci può stare Oh iiii Krillin C18 Ok Banner animation Va bene Bene Gohan Chiesi Zeno 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 Vai Gohan Gohan Abbiamo Gohan Abbiamo Gohan Assicurato Ok Cerchiamo doppia copia A sto punto Subito una multi Zeno animation Doppia copia di Gohan Siamo Ok siamo così Proprio Perfetto No non è un fake out Va bene Si è risollevato Molto questo video Devo dirlo Devo dirlo Veramente Si è risollevato Molto questo video Quindi Yeah Vai così ragazzi Vediamo un po' Piccolo Ok Mi sa che è solamente Gohan nuovo Non è un problema Non è un problema Se c'è altro Eccolo qua Con le Che cacchio di pose È Gohan Ha una delle pose Più stupide Del gioco Vai così Oh però non è finita Gohan di nuovo Gohan o Bardock Gohan o Bardock Sarebbero belli Oppure lui No Ragazzi Ragazzi Vabbè Quello dico Ho preso un po' Di giorni di pausa Dalle live Perché fa un caldo Terribile In questi giorni È veramente La morte La morte Con sto caldo Però ragazzi Stasera riprendono Le live Lo andiamo ovviamente A portare a turno in live Quindi vi ricordo Trovate il link In descrizione Al canale Twitch Ragazzi Venite a dare un'occhiata Ovviamente Come dico sempre Visto che l'abbiamo Pullato ad ability free Tempo Domenica Probabilmente Lo vediamo Con uno showcase Ability free Link level 0 Ovviamente Non credo di averli portati Super Per Per domenica Al livello 10 Però Però lo andiamo a provare Lo andiamo a provare Ad ability free Andiamo a vedere Effettivamente Com'è ability free Non saranno link al 10 Però vediamo come Come se la gestisce Soprattutto difensivamente Perché abbiamo visto Ad ability full Quanto cacchio è forte No Vediamo ad ability free Ovviamente Per sabato Esce anche una Super battle road Fatta con questo gohan Non perdetevela Perché è qualcosa di OP OP Questo gohan è veramente OP in super battle road Anche GG intanto per gohan Perfetto Portato a casa Manca ovviamente il rare summon Perché il rare summon Non li trovo mai Però va bene Comunque Andiamo Ultima multi Ho trovato gohan Non credo che andiamo Oltre a queste 200 stone C'è virus Ok Non esiste l'animazione Quindi facciamo finta di niente Super saiyan Release ray Ma andiamo con questa Ultima multi del video Vediamo un pochino Vediamo un pochino Super saiyan 3 Ok E' già difficile che ci sia Whis animation Quindi Yeah Andiamo Ho trovato Il kaioshinovo Così si fa Dokkan Grazie Per una volta mi hai ascoltato E mi hai dato il kaioshin Grazie Grazie mille No 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 Ma sono felice Sono sinceramente felice Oh Rare summon Più Dokkan fest Nel primo video E' dura E' dura Lo dico proprio per quello che è E' dura E' dura per me Fare una roba del genere Per fortuna che Almeno ho trovato Almeno gohan nuovo Perché Trovare solo il kaioshin nuovo Sembrerebbe un po' Le multi da jiren E quelle Ricordiamoci Non sono andate Benissimo da jiren Quindi Yeah Vai a quel paese Nailer Esci mi ssr O non uscire proprio Nailer Facciami in quel modo Dai E' un patto Dai E' un patto Esci mi E va bene Che schifo Trankstech ssr Lo schifoso GG Abbiamo anche il kaioshin nuovo Buono Ragazzi Io voglio finire però Questo video Con l'ultima Multi Proprio Per sempre Dal banner di jiren Va bene Ci siamo Ultima multi Chiudiamo così il video Jiren LR Grazie Voglio finire così Questa è l'ultima multi Su questo banner Che ho sfigato tantissimo Krillin Vegeta Va bene Oh my god Number one Da cacarotto Non mi trollare Fammi trovare Quel cazzo di jiren Voglio jiren La possibilità c'è Oh my god Number one Da cacarotto Oh my god Number one Da cacarotto Gambare cacarotto Come cavolo Vogliamo andare Ok Queste sono le mie Multi da jiren Nell'R Ragazzi Per quello Ho detto Ho sculato da Gohan Posso trovare anche jiren Oggi Sarebbe particolarmente Buono No Bojo HGL Lasciamo perdere Sto schippando Proprio perché Tante animazioni schifre Porca Eva Ma vattene via Da mio Vattene via Demigra Sei già due volte Che esci oggi Basta Va bene Ragazzi Direi Concludiamo qua Il video Abbiamo almeno trovato Il nuovo Gohan Il nuovo Gohan Felice per questo Ovviamente Quindi ci sta Eccolo qua Dove cacchio sei nascosto Eccolo qua Ragazzi L'abbiamo trovato Come ho detto prima Lo andiamo a vedere Probabilmente domenica Da ability free Domani Ovviamente Andiamo a vedere La multi da 55 Ho voluto fare le pull da Gohan Prima Mi interessava di più Domani vediamo la multi da 55 Però vi ricordo Che più tardi Verso le 5 Uscirà un altro video Ragazzi Quindi preparatevi Andiamo a vedere Rose LR Int Con il link A livello 10 Ragazzi Detto questo È stato un spiacere Grazie mille per essere passati Ragazzi Io vi ricordo Che potete seguirmi Sulla pagina Facebook Instagram E Twitter Tutti i link li trovate Sotto in descrizione Noi Ragazzi Ci becchiamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi är A A A A A Grazie per la visione!